Il Cudini 2.0 si è avviato 11 gare fa, 20 punti in due mesi dal nuovo debutto di Francavilla coinciso con la sconfitta al blitz di Messina di sabato scorso. Ne passata di acqua sotto i ponti ma a colpire è la media punti del Foggia dopo il ritorno del suo attuale allenatore. Cudini sta viaggiando a 1,81 punti a partita. Nella precedente gestione collezionò 22 punti in 18 giornate con una media a partita che si attestò sull'1,22. Un cambio di passo notevole testimoniato dai numeri con una media che se proiettata al termine della stagione regolare porterebbe il Foggia a virare intorno ai 54 punti, bottino che garantirebbe la disputa dei playoff. Ma i numeri, se è vero che contano, lasciano in questa fase della stagione il tempo che trovano perché i calcoli ora più che mai vanno a farsi benedire e il Foggia che sta da qualche settimana pigiando forte sull'acceleratore non ha intenzione alcuna di frenare. Serve mettere in cascina quanti più punti possibili perché se è vero che l'obiettivo primario, ora che la salvezza è stata raggiunta e prendere parte agli spareggi promozione, lo è altrettanto il fatto che in casa rosso-nera sotto sotto si punta a guadagnare qualche altra posizione per rendere meno arduo il cammino nell'avvio degli eventuali playoff. Tre gare in trasferta, due allo Zaccheria tra cui è atteso il Cerignola al momento principale antagonista del Foggia nella lotta per la decima piazza. Tra tre giorni un nuovo scontro diretto a Tenderizzo e compagni di scena sul campo del Latina. Un'altra gara delicata che in caso di nuovo successo porterebbe il Foggia ad agganciare proprio i laziali, una delle sorprese di questo campionato che tuttavia il meglio lo hanno dato lontano da casa. 28 dei 48 punti complessivi in graduatoria il Latina li ha infatti conquistati in trasferta mentre Balbetta e Come tra le mura amiche e il Foggia ha il dovere di provare ad approfittarne.